Oggi parliamo, come vedete, di contatti e messaggi extraterrestri, perché questi esseri sono qui, ci visitano e ci danno moltissimi messaggi. Il tema è vastissimo, amici. Oggi io, ovviamente parlando di messaggi extraterrestri, messaggi extraterrestri sono pile di volumi. Gli extraterrestri ci hanno dato, veramente nell'arco di 70 anni di ufologia, ci hanno dato una marea di informazioni a tutti i livelli. C'è informazione scientifica sulla natura di Dio, sulla natura dell'universo, dell'uomo. Per loro, ad esempio, i credo religiosi sono delle sciocchezze. Se noi siamo uno spirito incarnato in un corpo, loro fanno questo discorso. Non solo il corpo è un argomento di scienza, ma anche lo spirito. Soprattutto lo spirito, che è l'intelligenza che ha pensato la scienza. Quindi come può essere l'intelligenza che ha creato la scienza un credo e il corpo che la contiene scienza? È ovvio che sono scientifici tutti e due. Quindi loro dicono che il discorso dei credo è un grande inganno per mantenervi schiacciati dai poteri, compresi quelli religiosi.